che cosa ti ha sorpreso di te stessa in questo corso riuscire a resistere e ancora imparare avere ancora capacità o volontà di imparare ancora mi è proprio piaciuta la puntualità della sua del suo insegnamento l'agire per principi come è stato strutturato tutto prende sempre quanta energia bisogna metterci è stato tosto all'ultima parte che se dovessi convincere la tua te stessa di 5 anni fa a fare questo corso istruttori cosa le diresti vai avanti credi in te stessa si è determinata come al solito ce la puoi fare ok va bene grazie mille grazie a tutti grazie